Musica Benvenuti al TG10, in apertura del telegiornale, oggi ci occupiamo del mortale incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla stradale 115 Geralicata nei pressi di Monte Lungo a perdere la vita è stata una donna di 56 anni che si trovava sul lato passeggero dell'auto condotta dal marito lo scontro si è registrato contro un'altra vettura che, secondo alcune ipotesi, avrebbe invaso la corsia opposta Schianto mortale ieri sera, poco prima delle 20, sulla stradale 115 Geralicata nei pressi di Contrada Monte Lungo al chilometro 259, una donna di 56 anni ha perso la vita e ci sono anche due feriti si tratta del marito, della vittima e della conducente di una delle due vetture coinvolte nel pauroso e tragico sinistro è deceduta sul colpo Gaetana Di Fede che si trovava sul lato passeggero della Nissan Qashqai condotta dal coniuge Gaetano Cauchi, 59 anni, commerciante di mobili l'uomo è un ospedale politraumatizzato ma non in pericolo di vita in ospedale c'è anche la 43enne che guidava l'Areno Clio si tratta di Roccatasca, le sue condizioni non sono gravi da chiarire da parte degli agenti della polizia stradale e del locale di staccamento le cause del mortale incidente una delle ipotesi è che la Renault Clio abbia invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare mentre stava dirigendosi verso Licata la Nissan Qashqai a seguito del terribile impatto e dove avere colpito la segnaletica stradale si è capovolta per Gaetana Di Fede non c'è stato nulla da fare completamente distrutta anche la Renault Clio la vittima e suo marito stavano dirigendosi a Gela provenienti da Manfria per assistere ai riti della Settimana Santa sul posto del gravissimo incidente stradale sono giunti anche i vigili del fuoco e le ambulanze un venerdì santo di sangue in città che ha listato ancora più a lutto la giornata più lunga e dolorosa della Settimana Santa era già caduto la vera di santo del 6 aprile di 4 anni e dietro in quell'occasione un ragazzo di appena 24 anni perse la vita a seguito di un incidente stradale autonomo mentre in sella alla sua moto percorreva la strada che costeggia il Bosco Rittorio a pochi passi dalla lungomare Federico II di Svevia nei pressi del fiume Gela il ragazzo nonostante indossasse il casco di protezione perse il controllo del mezzo il casco gli volò via e batteva lentamente il capo sull'asfalto morendo sul colpo e adesso occupiamoci di due arresti eseguiti a Gela da polizia e carabinieri al termine di una lite da Far West che si è verificata in aperta campagna scene da Far West nelle campagne di Gela dove in un'operazione congiunta carabinieri e polizia hanno arrestato due pastori le manette sono scattate per Orazio Di Pietro di 36 anni pluriprogidicato e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Gela e per Luciano Russotto, 71 anni, anche lui pregiudicato al culmine di una lite legata allo sconfinamento dei rispettivi pascoli Russotto avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all'indirizzo di Di Pietro ma da una distanza tale da non poterlo attingere lo avrebbe anche minacciato di morte quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto hanno proceduto ad una perquisizione nell'abitazione rurale di Contrada Spina Santa appartenente a Russotto sotto i cuscini di un divano presente nel vano scala del casolare destinato all'attività pastorizia hanno rivenuto una doppietta calibro 12 e 4 cartucce altre cartucce sono state invece trovate al primo piano nell'armadio della camera da letto Orazio Di Pietro è stato invece arrestato perché trovato in possesso di un fucile detenuto illegalmente puntato all'indirizzo dell'altro pastore e poi gettato in un rudere all'arrivo delle forze di polizia il fucile a canne mozze aveva la matricola a brasa l'intervento dei militari dell'arma e degli agenti del commissariato di polizia ha evitato una tragedia impedendo a Di Pietro di rispondere al fuoco di Russotto sebbene quest'ultimo come dicevamo avesse prima sparato da una distanza tale da non poterlo raggiungere inoltre l'operazione di polizia con il sequestro dei due fucili utilizzati nella circostanza da Russotto e da Di Pietro e con il ritiro a scopo cautelativo dell'ulteriore arma legalmente detenuta ha consentito di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica che sarebbe potuta essere gravemente compromessa a causa di un loro eventuale improprio utilizzo Un nuovo incendio ha interessato la famiglia dell'imperitore gelese Antonio Giudice la scorsa notte il fuoco ha danneggiato la Fiat Panda del padre Cristoforo di 88 anni in sosta in via Stoppani nel quartiere San Giacomo esattamente a tre anni di distanza dal primo incendio che lo ricordiamo provocò la morte della madre dell'imperitore grazie agli anni sotto di 77 anni la donna fu colpita da arresto cardiaco dopo aver visto l'auto del coniuge in fiamme Apriamo adesso la pagina sindacale lettere di licenziamento recapitate a 115 operai della SMIM Impianti non ci stanno i sindacati doccia gelata per 115 operai della SMIM Impianti destinatari di lettera di licenziamento un colpo durissimo al già compromesso tessuto occupazionale locale nella missiva firmata dall'amministratore unico dell'azienda si fa riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro perché la chiusura per la riconversione della raffineria Eni non consente la ricollocazione alla lavoro del personale in esubero giovedì prossimo in prefettura a Caltanissetta doveva tenersi una riunione per affrontare il problema ma prima ancora sono arrivati i licenziamenti l'azienda è dovuta ricorrere alla mobilità a seguito si legge nella nota inviata agli operai del diniego da parte del ministero del lavoro alla richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria per cessazione della ramo di attività quanto accaduto nelle ultime ore sono delle provocazioni e noi non le accettiamo lo dicono i segretari confederali di Cigelle Cisle Will Ignozio Giudice Emanuele Gallo e Maurizio Castania la SMIM impianti sottolineano a lavori per milioni di euro non può licenziare dire che si tratta di una scelta inopportuna e non solo per il giorno scelto ieri venerdì santo è poco ribadiscono i sindacalisti perché in verità si tratta di un vero e proprio atto di provocazione nei confronti dei lavoratori del loro sindacato che ha già detto no alla mobilità il prefetto ricordano le sigle sindacali già due giorni addietro ha inviato la convocazione fissata per il 31 marzo al fine di comprendere le ragioni di questa assurda scelta stiamo parlando di un'impresa dicono ancora che dall'ottobre dell'anno scorso deve iniziare un lavoro da milioni di euro per conto della raffineria vorremmo sapere le ragioni del mancato inizio stiamo parlando di un'impresa che deve erogare mesi di salario ai lavoratori ed il TFR a coloro che sono andati in pensione è la stessa impresa che abitualmente sottolineano Giudice, Gallo e Castania due giorni prima di ogni incontro al ministero o in prefettura esce fuori con queste scelte che aumentano l'attenzione sociale in città Cigelle, Cisle e Will assieme alle categorie dei mentalmeccanici non ci stanno e rivendicano lealtà nei confronti dei lavoratori e della città lo stesso invitiamo a fare ad Eni una delle committenti di SMIM impianti le provocazioni le respingiamo con forza e gli stessi operai della SMIM impianti chiedono l'intervento immediato da parte delle amministrazioni comunali e regionali sentiamoli noi l'abbiamo definita una vera e propria doccia gelata perché è chiaro che noi non vi aspettavate che ieri giorno del venerdì santo vi arrivasse a casa la lettera di licenziamento sì nessuno si aspettava una cosa del genere in realtà anche se c'erano dei pensieri però diciamo che la società ancora non abbiamo capito di che cosa stiamo parlando perché la società naturalmente poteva evitare anche il discorso di mandargli il venerdì santo o aspettare addirittura il 31 che c'era la riunione a Caltanissetto in prefettura quindi ci sono diversi punti che bisogna chiarire anche perché la nostra società o ex società ancora non sappiamo in realtà come la dobbiamo chiamare ha avuto anche un lavoro dalla raffineria e di conseguenza dobbiamo capire anche se lo deve fare questo lavoro o meno e poi ci sono altri tassi che dobbiamo vedere cioè dire il discorso del non presenza dell'amministrazione comunale non invito della regione addirittura perché la regione dovrebbe essere là venerdì e invece tutto questo non c'è allora signori cerchiamo di svegliarci e unirci soprattutto per il nostro territorio e fare qualcosa di serio una Pasqua amara per tutti voi troppo amara perché poteva evitare anche questi licenziamenti a quanto che c'è qualche incontro a Palermo e si vedrà quello da farsi anche le istituzioni saranno credo con noi però è una doccia troppo amara ed è chiaro che ora voi chiedete un impegno immediato risolutivo da parte di chi di competenza ci rivediamo all'amministrazione comunale ci rivediamo al governo regionale sì perché naturalmente io credo che sono loro quelle che onestamente possono intervenire anche se non lo so quello che hanno in mente che cosa vogliono fare perché già è da parecchio tempo che questa cosa va in ballo e vedo che sempre rimbomba da una parte dell'altra qualcuno dice che si deve occupare la regione qualcuno deve il sindacato ma invece vedo che questa cosa sempre rimbalza quindi non lo so se c'è effettivamente una vera volontà per poter risolvere questa problematica quando siamo stati in Roma l'Alobello è stata intervistata dicendo uscendo dal Mise che c'era il 5% problemi non ce n'erano è anche vero che aveva detto che non c'erano più tre mesi ma c'erano un anno ma io voglio capire l'Alobello se questa cosa l'ha detta così tanto per far contenti a noi o in realtà ci sono questi fondi noi chiediamo come lavoratori o Gmimmi o un'altra società che l'Eni si mette in moto anche un'altra società di lavorare ritorna all'ora legale questa notte le lancette dell'orologio andranno spostate avanti di un'ora alle due del mattino che quindi diventeranno le tre perderemo un'ora di sonno ma la coincidenza con le vacanze di Pasqua renderà se vogliamo il passaggio più soft grazie al giorno festivo in più ieri venerdì il momento culminante dei liti pasquali il terzo giorno delle celebrazioni della settimana santa giorese delle processioni che accompagnano le sagre figi del Cristo e della Dolorata giorno di raccoglimento di digiuno e di astinenza in cui la Chiesa ci presenta la passione e la morte redentrice di Gesù dopo la celebrazione dei salmi e la solenne rievocazione del pellegrinaggio peritenziare del Cristo sofferente che porta il peso della croce e della passione seguito dalla Dolorata il simulacro è stato condotto al Calvario per la crocifissione eseguito da una moltitudine di fedeli in processione dai gruppi di preghiera e dai giovani delle associazioni cattoliche appartenenti alle parrocchie di Gera il gruppo di lamentatori accompagnato come da tradizione le processioni della settimana santa suscitando tantissima commozione tra i fedeli accentuata dal triste rullo del tamburo a mezzogiorno la crocifissione uno dei momenti più suggestivi ed intensa commozione dei riti della settimana santa l'antico simulacro settecentesco in cartapesta e cuoio del Cristo è stato collocato sulla grande croce del Calvario dove è rimasto fino all'imbrunire per essere venerato da migliaia di fedeli che hanno gremito la piazza dopo la preghiera della divina misericordia la via crucis animata dai giovani è la liturgia della passione e morte di Cristo alle 19.30 poi la deposizione della croce e l'imponente processione con il Cristo morto riposto nell'urna portata a spalla dai marinai gelesi oggi giorno di silenzio e di sommo lutto la chiesa medita la morte di Cristo nell'attesa della resurrezione in chiesa madre la solenne suggestiva ufficiatura e riposizione del Cristo morto nell'altare della passione alle 23 in chiesa madre è prevista la veglia pasquale e la messa di risurrezione domani alle 9.15 alle 11 alle 12 alle 19.30 e alle 20.45 nella chiesa del Rosario sono previste le sante messe e in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro l'interesse del giornale questa settimana si è concentrato sulle polemiche sorte attorno alla rimozione degli alberi da via Zomberto I e del ventilato spostamento della statua della femmina nuda oltre al pezzo d'apertura della prima pagina firma del direttore nel paginone centrale ci sono i contributi di Nuccio Mulè Franco Lauria e Giuseppe Laspina la pagina politica ospita invece un'intervista a tutto campo di Nello Lombardo al vice sindaco Simone Siciliano mentre Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto prende di vira chi abusa dei termini inglesi per fare sfoggio delle sue competenze linguistiche il giornale si occupa anche della legge di riforma dell'ex provincia chiamando in causa le responsabilità e l'interesse tardivo oltre che malizioso del presidente della regione Crocetta all'interno altri articoli di attualità e cultura tra cui una riflessione di Marco Di Dio sulla funzione pedagogica e formativa di Don Emiliano di Mensa Nello sport Orazio Accomando esalta il gran finale di campionato del Gela mai così vicino alla Serie D e commenta il deludente finale di stagione delle due squadre gialesi impegnate nel torneo di promozione atletico e macchitella i piccoli annunci economici gratuiti in ultima pagina infine chiudono come sempre il giornale ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità ed eccoci seconda parte del telegiornale che apriamo con le ultime notizie che interessano il sistema satellitare americano MUOS che sorge in Contrada Ulmo a Niscemi le rilevazioni condotte a Niscemi dal 9 all'11 marzo scorso dai tecnici incaricati dal consiglio di giustizia amministrativa escludono che le antenne dell'impianto satellitare della marina militare statunitense MUOS siano nocive per la salute i campi elettromagnetici dicono i tecnici raggiungono le decine di 1000 volt metro solo in un'area limitata circa 200-300 metri verso sud dalla piattaforma dell'impianto altrove sono inferiori al centesimo di volt per metro il tribunale amministrativo regionale e poi il cga avevano accolto il ricorso del comitato non MUOS per bloccare lavori pur condizionandolo all'analisi adesso consegnata dai tecnici non ci aspettavano nulla da rilievi era un test di comodo dice il presidente di lega ambiente sicilia Gianfranco Zanna è fatto in modo blando e senza alcun rigore scientifico ma se qualcuno pensa di poter riprendere il percorso che porta la sua messa in opera commette un grave errore e compierebbe atti illegali perché il MUOS dice ancora è e resterà pur sempre un'opera abusiva realizzata in una riserva naturale la suggerita istituita nel 1987 dalla regione siciliana in un'area di grande pregio paesaggistico che solo l'arroganza di chi l'ha progettata di chi l'ha tacitamente consentita ha potuto violare pensando di farla franca questa verità non si può cancellare nascondere o far tacere per il coordinamento regionale dei comitati non MUOS le ultime misurazioni sono state fatte a casaccio senza un preciso modello previsionale tutti i sistemi di antenne erano comandati da remoto dunque fuori dalla base di Niscemi senza possibilità di alcuna verifica sulle reali modalità di utilizzo delle antenne lo stesso coordinamento inoltre sottolinea che finora il giudice amministrativo non ha mai affrontato il problema dell'inedificabilità assoluta dell'area nella quale è stato realizzato il MUOS così come se è levato dalle parti ricorrenti la Cassazione giorno e dietro ha confermato l'abusività dell'opera proprio perché è realizzata in area inedificabile sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana numero 20 dall'11 marzo scorso quarta serie speciale è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 605 allievi marescialli all'88esimo corso presso la scuola Ispettori e solitendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2016-2017 la presentazione delle domande dovrà avvenire entro l'11 aprile prossimo la domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito gdf.gov.it area concorsi online seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando quest'anno la nostra associazione Dona per un sorriso ha deciso di donare queste uova di Pasqua che abbiamo raccolto per i bambini dell'ospedale San Delia reparto pediatria proprio per donarli un sorriso è la Pasqua dei piccoli ricoverati dell'ospedale San Delia un gesto di solidarietà reso possibile grazie all'impegno dell'associazione Dona per un sorriso preseduta da Samanda Solami che si accompagna alla cura e all'attenzione verso i bambini meno fortunati una settimana santa più dolce per molti di loro e tutto questo grazie al costante impegno delle donne dell'associazione e al contributo di alcune scuole superiori e primarie della città vogliamo ringraziare intanto tutte le persone che fanno parte della nostra associazione sul social network facebook vogliamo ringraziare tutte le famiglie che comunque in giordina ci aiutano a contribuire a rendere felici i nostri bimbi e vogliamo ringraziare la scuola Oasi Cristo Re di Caltanissetta e poi due classi di due scuole superiore la prima AL dell'istituto Ruggero VII liceo classico di Caltanissetta e la prima D dell'istituto alberghiero una vera e propria rete di solidarietà attiva non solo durante il periodo di Pasqua ma per tutto l'anno nella sede adiecente la chiesa Santa Croce ma anche sul web nella pagina facebook Dona per un sorriso creata dalle mamme volontarie noi di progetti ne abbiamo tantissimi però sicuramente ne stiamo seguendo un paio verso i quali crediamo che ci sia la consapevolezza comunque di poterli realizzare concretamente il primo ci stiamo rivolgendo direttamente al comune stiamo cercando di trovare dei locali idonei nei quali organizzare dei centri di ascolto sempre per le nostre famiglie perché comunque il nostro fine ultimo è quello di aiutare le mamme con i loro bimbi quindi centri di ascolto con persone specializzate a seguire delle problematiche particolari dei bambini e soprattutto creare anche momenti di gioco e di svago con delle ludoteche tra virgolette dove possiamo permettere a questi bimbi di poter anche festeggiare il loro compleanno di fare delle piccole festicciole e noi chiediamo sempre l'aiuto da parte di tutti nella raccolta appunto di abiti scarpe e generi di prima necessità e comunque io con tutta l'associazione volevamo ringraziare il primario del reparto pediatria di Caltanissette il dottore Cavaleri per averci dato l'autorizzazione a donare appunto queste uova di Pasqua e delle colombine a questi bambini che proprio nel periodo pasquale in questo momento comunque sono qui ricoverati Gran concerto di Pasqua domani alle 20.30 al Palazzo Pignatelli di Gela si si birranno Micaela ad Alessandro soprano Salvo di Salvo Baritono ed Annalisa Mangano pianista in conclusione la pagina e la macchinazione Chi ha ucciso Pasolini il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Machidella a Gela sono tre gli orari ve li ricordiamo 17.30 19.30 e 21.30 con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo le informazioni di oggi vi auguriamo una serena Pasqua e anche una serena Pasquetta appuntamento alle prossime edizioni a Gela